Il governo del fare ha risolto tutti i nostri problemi. Finalmente. Ci è voluto un po' di tempo, ma hanno trovato la soluzione a tutti i nostri mali. Proprio tutti. Per risollevare il paese, non ci abbiamo pensato prima, bastava tagliare i parlamentari. In effetti il risparmio è notevole. Ora le casse dello Stato possono stare tranquille. Taglio dei parlamentari, parliamo dello 0,0000258% del PIL nazionale. Insomma, per intendersi, su uno stipendio di 1000 Euro, da domani tutti avranno in tasca 2,58 Euro in più. Si prevedono ingenti investimenti, un appuntito rilancio dei consumi e poi sicuramente nuove assunzioni nel mondo del lavoro. per ora. Certo, rimane semplicemente da studiare una riforma elettorale che garantisca una decente rappresentanza di tutte le zone d'Italia, di tutti i cittadini. Poi bisogna semplicemente, banalmente, ridisegnare l'architettura parlamentare perché vengano rispettati i contrappesi democratici, così come pensati nella Costituzione. Ma è una cosa da poco. Del resto, se ci pensate, questi hanno dimostrato, ma direi da tempo, di essere dei geni delle leggi parlamentarie e delle riforme costituzionali. Del resto, sono quelli che vogliono rifare la legge elettorale perché dicono che fa schifo e sono gli stessi che l'hanno fatta, cioè l'hanno fatta loro, alla grande, direi. Poi ci sarebbe da pensare a come assicurare le pensioni a una generazione che ormai le vede come una chimera, assolutamente improbabili, però ci penseremo dopo. C'è anche da ristrutturare il mondo della scuola, in cui gli studenti si devono portare la carta igienica da casa, ma con 2 Euro in tasca in più vedrete che qualche buona offerta di carta igienica sicuramente si troverà in giro. Ci sarebbe anche da ripinguare una sanità pubblica ormai allo sbando, tra l'altro che non ha abbastanza medici in previsione da assumere. Però vuoi mettere la soddisfazione di ammalarti in un paese con il Parlamento dimezzato? Dai, su. Ci sarebbe anche da discutere del fatto che il pianeta Terra, se continuiamo così, avrà una temperatura che renderà inutile il Parlamento, ma non ha senso inseguire gli allarmi della scienza. Dai, su, non scherziamo. Soprattutto quando si fanno queste importanti riforme. E poi ci sarebbe anche questo mondo del lavoro che diventa sempre più stretto, sempre più povero e anche sempre più assassino a vedere i morti sul lavoro. Ma dicono che non sia elegante parlare di soldi. E allora non ne parliamo. No. Però abbiamo risparmiato due Euro e tondi a testa. Perché dice che l'importante comunque è iniziare da qualche parte e mandare un segnale. Eh beh, sì, hanno ragione anche loro. Effettivamente si poteva ad esempio dimezzare lo stipendio dei parlamentari, a pensarci bene. Oppure, solo per citare qualche esempio, eliminare mafie, corruzione, malaffare, evasione fiscale delle multinazionali che ci costano infinitamente di più. Però sarebbe diventato tutto troppo complesso, troppo complicato. E allora tutto a posto. Va bene così. Buon mercoledì.